7 persone sono state arrestate e altre 4 invece sono state sottoposte a obblighi di firma e devono presentarsi alla polizia giudiziaria. E' questo il risultato di una vasta operazione contro un'associazione a delinquere finalizzata allo sfruttamento della prostituzione che operava a Cosenza e che è stata effettuata nelle prime ore di stamani dagli agenti della polizia di stato della questura di Cosenza e dai carabinieri del comando compagnia di Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica, avrebbero consentito di ricostruire un articolato associazione a delinquere che reperiva e gestiva più case, in cui, affermano gli investigatori, le meretrici potevano soggiornare e ricevere i clienti. Forniva loro la protezione avvelendosi della collaborazione di soggetti inseriti nel circuito criminale della zona. Assicurava la disponibilità di autisti che potevano accompagnare le prostitute nei casi in cui fosse necessaria la presentazione fuori sede, preoccupandosi di aspetti meramente pratici quali, ad esempio, l'inserimento nei giornali delle pubblicità delle offerte a sfondo sessuale. Sappiamo perfettamente che nel nostro ordinamento c'è il principio per il quale sia innocenti fino al terzo grado di giudizio e non ritengo che lo si debba cambiare. Lo ha dichiarato Gian Franco Fini, presidente della Camera, ospite a Cosenza di un incontro organizzato da Futuri Libertà. Al suo arrivo Gian Franco Fini è stato contestato da un gruppo di appartenenti alla destra. I militanti del partito di Francesco Storace hanno chiesto le dimissioni di Fini per l'uso di parte che viene fatto da una carica dello Stato che dovrebbe invece essere al servizio della Repubblica Italiana, come hanno scritto in un volantino distribuito all'uscita del Cinema Italia. Ha confermato la sua fama di rottamatore, ma con buonsenso, il sindaco di Firenze Matteo Renzi, nelle quattro tappe calabresi di Reggio Calabria, Vibo, Crotone e Cosenza del suo tour nazionale. Al tema di ogni suo intervento, infatti, c'è il cambiamento in politica, il maggiore spazio da dedicare ai giovani, il lavoro e le sue idee con le quali concorre alle primarie del PD, nelle quali sfiderà il segretario Pierluigi Bersani. Successo di pubblico per la 32esima edizione della Sagra dell'Uve del Vino Doc di Donnici che si è svolta nel borgo antico della frazione a pochi chilometri da Cosenza lo scorso weekend. L'appuntamento con i sapori d'autunno che si è chiuso ieri ha fatto registrare una buona affluenza di pubblico che ha affollato gli stand esposti e potuto degustare i vini donnici doc, il tutto accompagnato da musica e danze popolari. Suggestiva l'ambientazione proposta dall'associazione Vivi Donnici che quest'anno ha organizzato la Sagra che ben si sposava con l'incantevole scenario rappresentato dall'antico borgo.